Iscrizioni aperte fino al 13 giugno ai punti verdi organizzati dal comune di Pordenone. Le attività coprono fino a un periodo di sei settimane dal 5 luglio al 13 agosto. Sindaco, anche quest'estate è comune vicino alle famiglie con l'organizzazione dei punti verdi. Soprattutto quest'estate direi che è un servizio doveroso. I bambini sono una categoria che ha molto sofferto durante la pandemia. L'anno scorso abbiamo assicurato i punti verdi, il prolungamento del servizio di asili nido ma con delle prescrizioni e dei limiti che rendevano quasi surreale la partecipazione a dei momenti che dovrebbero essere invece di gioco e di divertimento. Lo dico soprattutto da papà. Quest'anno invece diciamo che torniamo ad un livello di quasi normalità e quindi in un clima che dovrebbe essere festoso e gioioso per i più piccoli. Garantiamo che quest'anno tra l'altro a costi assolutamente invariati sia il servizio di prolungamento degli asili nido, quindi 0-3 anni, sia il servizio per i bambini da 3 a 6 anni. La cosa importante è che non lasceremo nessuno indietro come negli anni scorsi, non abbiamo avuto liste d'attesa o qualcuno che è stato respinto. Tutte le informazioni sono sul sito web del Comune, Comune che dà una mano anche ai punti verdi privati. Il Comune sarà vicino anche alle strutture private, al mondo associazionistico, a quello sportivo che organizza autonomamente decente aggregazione, momenti di divertimento ludici per i nostri ragazzi proprio per la ragione che ho detto prima. Quindi è fondamentale dare una mano per ritornare un po' la volta alla normalità.